lo consiglio con voto 8 e mezzo dato l'ottimo rendimento in game giocatore comunque ibridabilissimo per via della nazionalità perciò a mio modo di vedere può essere consigliato a maggior ragione per il rapporto qualità prezzo rendimento in game ottimo ad un prezzo particolarmente contenuto richiede un sbc di 83 più if che lo catapulta tra le cheapest di categoria quindi per cui a mio modo di vedere può essere pienamente consigliato con un bel 8 e mezzo specialmente per coloro i quali possono utilizzarlo per riciclare qualche if a scarto 83 vari di sorta o coloro che hanno una rosa magari particolarmente esotica con a base il campionato dei redivise può comunque risultare poi anche utile in vista di possibili tots folder da andare ad inserire poi in qualche sbc futura nel caso può esservi anche utile per completare i vari obiettivi dato che è francese quindi ibridabile e di un campionato differente dai 5 principali che si vanno poi ad utilizzare